Pietro Tonussi, responsabile settore bancario sud Europa AXIS. Questa mattina qui a Banca e Sicurezza a Milano è stato firmato il protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca nella provincia di Milano alla presenza del prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca. Che cosa rappresenta per un'azienda come AXIS così verticalizzata nel settore bancario tale protocollo? Rappresenta un momento molto importante e lo sottolinea il commento che lo stesso Marco Iaconis ha fatto al lato della firma. Il commento diceva testualmente rappresenta il passaggio definitivo dal mondo analogico a digitale con forti investimenti in quello che è la sicurezza bancaria. Ovviamente per AXIS Communication che da ormai parecchi anni si occupa di sviluppo di prodotti specifici per il mondo bancario non può essere che ottima musica ovviamente. Il fatto che io stesso sia qui in questa situazione è proprio per capire che cosa il mondo bancario sta richiedendo se ci sono delle richieste particolari. In altre parole stiamo già lavorando per quella che è la banca versione 2.5. Questo perché ci deve spingere a trovare un qualcosa sempre di nuovo ed essere pronti a quello che il mercato bancario richiede ed essere quindi pronti per il futuro. Quello che vogliono adesso penso, credo che lo possiamo già avere nel nostro portafoglio prodotti, soluzioni ma dobbiamo cominciare a guardare al futuro.